Il mercato cinese rappresenta quasi il 29% di tutte le vendite di lusso a livello mondiale. I consumatori della Cina sono attratti da prodotti di brand prestigiosi e le case di mode italiane del lusso sono in prima fila in questo fenomeno. Proprio per questo a Wine2Wine è stato organizzato un incontro tra imprenditori di successo del settore moda lusso e aziende vinicole italiane. Nel corso del seminario Jean-Charles Vian, moderatore dell'evento e vice-redattore di Spirito di VinoAsia, ha offerto un'analisi del mercato cinese, suggerendo alcune strategie vincenti. gigante e a Wine2 è solo una piccola portion della total luxurio, la total purchase del luxurio. In fact, siamo qui per studiare cosa la industria del luxurio è fatto per vendere così bene in China e credo che una cosa che è molto importante è prestigio. A wine company deve migliorare il prestigio del brand. Il secondo è di creare relazioni. In China, relazioni sono molto importanti. Quindi, abbiamo bisogno di trovare un modo per prodotti a visitare la Chia più oftene, o quando i chiunici sono arrivati a Italia, per stabilire un contatto con i chiunici, in order di mantenere questa relazioni. e il secondo è di lavorare molto molto forti in altri mercati del mondo, perché se siamo famosi in America, se siamo famosi in Scandinavia, ci sarà più facile da convincere i chiunici che possiamo anche essere famosi in China. Chiunici amano famosi in famosi, e quindi essere famosi è la prima strategia di essere successo in China.